Sì, cosa devo fare? No, niente Devi cambiarti il nome No, no, vabbè, vabbè, iniziamo No, vabbè, non fa niente Devo scrivere una frase? Sì Grazie, piccola Grazie, gloria Ottima live di design Ma diciamo, devi scrivere una frase a caso E poi a te ti arriverà la frase di uno In cui la dovrai disegnare Chris, disegna una frase a caso, ovviamente Se ti viene in mente, hai capito? Eh, c'è scritto Che shooter, cavo uccello, eh Non lo dire che è scritto, Chris Fatto? Ma cosa è che devo scrivere? Quello che devono disegnare gli altri Capito Tipo I mates con il covid Mi squilla il telefono Pronto? Pronto Pronto, via Pronti, partenza, via Grazie, piccola Le eseguo Ma io non ho scritto niente No, vabbè Ma io sto inguaiata a disegnare Io voglio aiutare No, vabbè, vabbè Ma disegnate cose a caso, ragazzi Non vi preoccupate Questo è il bello del gioco Questo è il bello del gioco Devo disegnare quello che c'è scritto sopra? Sì, quello che c'è scritto sopra, bravo Ragazzi, posso tornare indietro una volta che ho sbagliato? Sì, sì, puoi tornare indietro Sì, ci sono le freccette a destra Non le vedo Non le vedo No, vabbè, ma vedi Ci sono le freccette in basso a destra C'è tempo? Sì, 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 c'è il tempo Quanto tempo c'è? C'è il 15 minuti 15 minuti Ma che cazzo ti dice Ma che è? Come si fa a cancellare? Come si fa a cancellare? A destra c'è la gomma Con la gomma, con la gomma Qual è? Cosa? Con la gomma 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 Dovrebbe essere un gioco tranquillo Ma come si cancella? Capuziello con cosa cazzo si cancella Capuziello Ok Minchia ragazzi Ve lo giuro Da bambino A sei anni Ero più bravo È essere un gioco tranquillo Di solidarietà Come? Un gioco tranquillo Di solidarietà Ok ragazzi Io ci sono Perfetto Al mio è impossibile Dai ma come cazzo ti fa? Ma che è scritto? Che è scritto? Che te hanno Tartarughe ninja Sto facendo io? Non fate andare avanti No Mi amore Borei Mi amore Ma chi è che si sta Assemblando Non è così Ossessionato dai mates Da chiedermi di fare Sta cagata Giro Oh Ma ragazzi Ma si fa cambiare colore In da sinistra Ma non è vero Non sto capendo nulla Aiuto Già solo disegnarli Ci metto un sacco Fabio Stai tranquillo Ok Un secondo No Ma che cazzo è? Cos'è? Ok No ragazzi Ora bisogna scrivere Cosa rappresenta la figura Vabbè Questa è facile Questa è facile Sono fottuto Figo Chi è entrato? Ah Simone Ciao Simo Ma cos'è? Ma no Ciao Simo Stiamo facendo Gartic phone Vuoi unirti dopo? Quando Quando finita la partita? Tra Secondo me Dieci minuti No 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 Mancano Mi pare Tre round Sono onorato di partecipare Allora È impossibile Simo Mettiti giù E poi appena finiamo Ti risposto io su Che tanto stiamo disegnando Mi piace questa modalità A dopo A dopo Sì ragazzi Wow È così difficile È così difficile Grazie Danilo Ma io non so neanche come cazzo sono fatti questi Grazie piccola 57 mesi insieme cucciola Ma pure ho fatto un capolavoro Grazie aia Scusa Omi non sei un fenomeno passeggero Fai sto lavoro per sempre Ho fatto un super Video o dirette Non passerai Da vivere ormai Ma che mi rappresenta questa cosa? Per sempre e anche a livello di fama Finché tu ci sarai Noi ci saremo Vai avanti Raga ma è impossibile Grazie mille SKS Che capolavoro Monella Sì una monella Io non so Stai mettendo se una monella Non lo so Pazzata gigante Bro io non so come Io non so come si fuma Con Te lo spiega Chris Che è esperto Muscolo F Come si fuma Chris voleva sapere Omi Prendi la bottiglia Che è il tasto per riempire Ah giusto Sbagliato Il ballo è il tenis È in alto a destra Sì Ah ok Magari il serpente Potevo farlo di un altro colore Ma Tiz non spoilerare Ah scusate Ok ce l'ho fatta È facile Anche la mia era abbastanza facile Ah ragazzi Ragazzi E mai c'è i suggerimenti in chat Andre ma sei cresciato Sì sì mi si è scaricato il telefono Ok 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 è finito il gioco Grazie a Onirax per l'anno Anche poi lei Anche poi Anche sei l'host eh Ah allora devo farla io Sì grazie Sì si deve andare avanti Anche Grazie Enrico Un'attesa dell'host La vedete tutti no? Sì Sì Credo Ok allora faccio la presentazione manuale Dunque vediamo Stavo scendo fuori I mates con Albano Bellissimo Alti un di Obietol Presente Vai Via presente Rovazzi che caga su Albano Vediamo Chris cosa ha fatto Ma tu l'hai mai fatto Tu hai mai cagato su Albano Fabio? No mi è ancora capitato Michael Spreccia a Monaco Ok Vediamo È un passeggino Oddio Madux Madux Adizio Adizio Grazie piccola Vabbè Minore di tre Minore di tre Ma perché scivola su una banana verde? No 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 Vuol dire non più Vegetale Vabbè Si prega di non lanciare Schumacher Beh Ma come avete fatto a sapere che era Schumacher? No Perché mi era passato Mi era già passato un Disegno Eh perché c'è un altro fiore che parla di Schumacher Eh infatti Non è il primo Vai Un altro Un altro Ok Poi Prossimo Io ho messo Capuziello canta sul palco Chopin Buon anno Sono 17 Quella Molto bello Che penna Molto bello Capuziello che canta Chopin ha il concerto di Fabio Perfetto Sta reggendo Vai Cap Eh raga io qua non avevo capito niente Ma difficile Madonna mia che peccato Fabio Qua stavo reggendo Orge dove ha il concerto di Capuziello Ok L'orgia dove? Ah sono nudi Eh ma perché forse si stavano aggrappando sull'orgia Capito? Quarantena filtra Fanno entusiasta il concerto di Rovazzi Purtroppo è stato perso Capuziello Niente Se l'hai mangiato Rovazzi Niente Rovazzi ha pensato all'orgia E ha scritto all'orgia È preoccupante quello che ho fatto io Gallina con spliff in bocca Spliff Coco Ok bravo Bravo bravissimo Che t'ama Ma come che t'ama? Ma Chris Chris vai No 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 Con su nipote Eh io non sapevo bene come ha fatto Diego Nasca Però su nipote Molto buono Che non sa che età abbia magari Molto buono Diego Nasca ha fatto un cannone insieme a Chris Da piccolo Vabbè Quindi Gallina con spliff in bocca è diventato Diego Nasca Che è comunque un cannone insieme a Chris Vabbè Ok Vediamo la sua pen Fabio Ragazzina che spinge un pagliaccio Ci sta? Ragazzina pagliaccio Sembrano più Sembrano amici eh Sì sì Sembrano No Così specifico Grazie Ho segnato perché mi ho fatto una bandierina a destra No 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 Ho pensato che braccio lungo ha Eh Ho mi fidanzato in RP No Ti sei perso capo Roleplay Sempre con la L di Napoli Comunque Roleplay tra parentesi è bellissimo Però sono tornati in quelli di prima Rosso e È vero La magia di Natale Guy Crecci È Maddox No No Stavamo tornando indietro Va bene Va bene Dai la prossima volta Album di Tizzone Michael Ma Michael Eh qua vedi qua Eh esatto Qua c'è tornato Ma C'è un pen che ha scritto Fammi vedere Eh ho fatto Bella Ah bellissima Ho lasciato Mon Per far intendere Monaco Mi disegnascono tutti così La sogna di tornare a correre Ah Direi tu non sogno C'è un piccolo No no Mi distraffo C'è un attimo No Bellissima Kissly Kissly Ha intanto tutte comunque Ma io non ho ancora capito bene come si gioca Come è Non posso scrivere chi è Devi farlo capire Chi è Gennaro Gischianto Chi è Gennaro È Gischianto Gennaro E qua Non c'è più nessuno che specia Gischianto Gischianto I mezzi con Albano Bella immagine Ah ecco È qua Ho fatto in tempo Eh raga ma quanti sono i mezzi Io non lo so È quattro Ma non ci sono anche divisi Si sono divisi No ok Ma quanti erano allora Prima della divisione Eh Pena quindicina Vabbè Ecco ti specifico Con Covid Variante omico E non sapevo come mettere la variante Tu sei stato bravissimo Fabio Per colori Eh io sono Io sono caracciato Non avevo capito Guardi Ferenza Scusami È la punturina bro Che si suona Il medico performa peretta anale Mentre uomo riceve fellato È una descrizione precisa Qual era la frase iniziale scusa Me era Me isco di Albano In effetti sono quattro Cioè Sì ma bro Ho messo anche il kit di scrittura E con gli occhiali Sulla Sì ho capito Chiaro Chiaro Scusami l'ho confusa con una fellazio Ho sbagliato io No vabbè ma non ti preoccupare Chopin Le pubblicità mi stavano uccidendo Ciao Vecchia Allora L'ombrifo viola Viola la guida Ok Ma chi è che l'ha scritto? Chris Viola La macchina Non si capisce benissimo Vediamo cosa è successo Assicuramente Lecca l'orecchio di una tartaruga Make sense Ho capito Ecco ha fatto un capolavoro Bellissimo Bellissimo Anche con due tipi di verde Bravo Oh Stupendo Una serpa arancione Baccia sul capo Una tartaruga Good Ma che fai l'orecchio Ma cos'è? Ma che serpente è? Sembra un guinzaglio Non sembra ancora Schumacher Questa poteva finire con Schumacher Torna a correre Beh non male Ci siamo quasi Ci sono Ci sono Abbiamo finito mi sa Sì 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 Ah abbiamo finito Sì 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 Dai facciamo Facciamo un altro round Vai Sì dai vai L'unica cosa Voglio sapere Come si fa Ad aumentare un pochino round Allora Allora Fammi condivisione Schermo Lo sto facendo Ragazzi vado a volo in bagno Arrivo Allora devi andare su personalizzate Ok E qui crei la tua partita personalizzata Il tempo Il flusso di attività I turni È asciutto Cabuziello Ah no siamo Cabuziello Devo chiederti scusa Non ti preoccupare Vabbè Non ti ho detto che cosa E lui Già ti perdono È carta bianca Già ti perdono Ok Posso Solo non È Bene così Bene così Ok Ne vuole parlare faccia a faccia Ragazzi Adesso si vuole Può fare letteralmente Tutto E' già perdonato Sì Già perdonato Anche Non c'è il motivo Se la vita fosse così Serebbe veramente strafacile Ma io posso cambiare il nome Sì sì Vi ho passato il link Anche chat arcobaleno È un nuovo link Vino di albano Ma aspetta Stai dando troppe informazioni Cosa devo fare Link E nella chat arcobaleno Ok No no Diceva Cabuziello Ho capito No non ti preoccupare Manca Vabbè Manca tizze Chris Perché ci sono Ma manca Chris Chris Tutto ok Io il tempo Non ridurrei un pelo Comunque Come ridurrei No no Va bene così Dai Ma ragazzi Ma malapena Riusciva a scrivere Monaco Eh Chris Devi prendere il link Nella chat Del copaleno No no Ah qui Non Cioè Metti animazione on Aspetta Ho sbagliato Ma chi è il cabo Della stanza? Eh io Andre non so Andre non so cosa sia Animazione on Però mi sembrava bello Un secondo ci sono Sì 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 Simone può capitare Animazione penso che sia il Che hai detto? Può capitare Può capitare cosa? Cosa? Che è moi? Che succede? Vai via Vai via Vai via Ok ragazzi Faccio pipì Tanto c'è tempo Let's go Let's go Come state ragazzi? Questo secondo me rega le emozioni Ragazzi non so Non riesco Siamo una ragazza Schumacher If possible Ma è sparito il riempitore Dov'è? Ecco È vero Non c'è più 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 Oh mi ha tolto il riempitore Eh oh Come scusa Vabbè Oh mi ha tolto il riempitore Classica Oh mi ha tol move Che caccio? Perché lui usa solo i cerchi Quindi non gli interessa Può capitare Può capitare Che cosa? Ah ragazzi Questa non riesco Però Capuzia Che cosa può capitare? No Sono sta cosa che ti hanno Sta cosa che mi hanno scritto Grazie Che cosa? Più passa il tempo E meno Capuziello Alla voce da uomo Cioè quando Fine partita Il catalogo Il catalogo Come faccio a realizzare Sta cosa? Allora Cosa devo fare? Let's go Mi sa che ti Si è capitata La mia frase Vero? Ho come l'impressione Entra Capuziello Potrebbe Però Che cazzo Come lo realizzo? Eh quella Non vedo l'ora Di vedere Cosa viene fuori Quello è un capolavoro Se viene fuori Di bene Raga però Senza il secchiello È diventata Way hard È difficile Mi ha tolto il secchiello Mi ha tolto il secchiello Mi ha tolto il secchiello Perché hai tolto il secchiello? Pronto? Comunque In Non so quanti round Abbiamo fatto In tutta la nostra storia Tipo Una sola volta Siamo andati vicini A riottenere la frase Ciao Diego Ciao Diego Let's go Ciao Ciao E non capisco Come hai fatto a disegnare Diego prima ti ho disegnato Con tu nipote Fatti Ah fumarsi una canna Sì Io non fumo Ah ma questo No Ho sbagliato Maledizione Va bene Io non fumo Che cazzo l'ha fatto questo? Ok Forse qualcuno ha preso Ok Ma io non riesco a disegnare così Secondo me Lo fanno perché hanno il computer Ma cosa vuol dire? No cos'è questa cosa? Perché? No perché c'è il disegno di prima? Perché c'è quello vecchio? Ah hai visto animazione on? Sì C'è film? Modalità film? Sì Questo dovete ricalcare Il disegno fatto Con delle varianti Come se fossero delle animazioni No è impazzisca Bellissimo Ho capito è bellissimo È ma è difficile in culo 9,19,29 Ma è super difficile È bellissimo urlo Ma che cazzo significa? Ma chi è che scrive sta roba? Ma che è che stai disegnando? Io sono Sono a Ma non si può Non c'è un tasto che ti richiama Io sono a riprodurlo Ci metterò il doppio del tempo Sì infatti Ma potevano mettere un tasto Che te lo copiava direttamente Eh però come fai Puoi fare le varianti Eh lo cancelli Lo cancelli e lo rifai Ah vero Lo cancelli le cose da fare Ma poi ma chi cazzo l'ha disegnata sta cosa? Minchia ragazzi Ma è il disegno più brutto che abbiamo mai visto Chi cazzo l'ha fatto questo? Ok intanto In faccia Da Dalio Moccia E Cidonia Ma che cos'è? Ma che cos'è? Sembra Simone del Pagno Ma è una mia clip Ma che succede? Omi? Ai L'hanno donato a te? No no adesso c'è le cuffie da telecaster L'ho visto Sembra un call center Ma chi sta disegnando? Ma in realtà non è un call center Sono le cuffiette dell'Xbox No? No no Da call center Ma che non so cosa fare Madonna ragazzi Che incubo Vabbè facciamo i cafoni dai E niente il tema di questa sera Siamo io e Capuzziello Eh a quanto pare Eh Facciamo i cafoni dai Scaldo al cuore No 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 Ho ricalcato Ho ricalcato tutto Bello però Yes sir Sì Ma c'è anche la frase qua Ma non devi ricalcare Andy Devi animare Lo sto animando Lo sto animando Cioè devi fare il time dopo Ma hai fatto gli artisti con di tua Andrè Sì Ci siamo Hai fatto l'artistico tu Andrè Sì Faccia mica fuori dai Beh si stupisce di più Dove è il mio telefono Che era stupito adesso Capite Ma me ne sono Vabbè non so Ci sono Mi scrivi Ma che cazzo è Corvo nero Cos'è 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 questo Secondo me Cos'è questo Cos'è questo Questa rappresentazione Questa è Facile Allora Quella a destra È albano Eh sì O Indiana Jones Ma che ne so Ma cos'è Sì Ma dai No no Ma vogliamo farlo normale Mi sto impazzendo Sì adesso è sempre Il discorso Animazione Sì Ma è sicuro Simo Che dobbiamo ricalcarlo Per forza Sì sì Devi ricalcarlo Per forza L'ho già fatto Credo Poi vabbè Ma se non l'ho cambiato Impazzisco Io sto facendo Un upgrade Ai disegni di merda Cioè li rendo Tipo come se Diventassero in alta definizione Ma tu come fai A farli così bene Fabio Sei Con Ma con Con mouse Sì Insomma Pirandello Questo era un po' troppo Pirandello Ma poi ragazzi Omiettel lo avete fatto Con gli occhiali Perché Dove sta Omiettel Eh non lo so Questo dovrebbe andar bene Si spera Io tra l'altro Sono già A buonissimo punto Ma al top Mi auto identificherei Al top Senti Andrea Scusa Dove abiti adesso Eh non te lo dico Domanda che si chiede Tipicamente da Andrea Ma hai un tetto Sì sì Ah quello Quello mi preoccupava a me Solo quello Ok sono felice Che tu abbia un tetto No Simo Non resta la parte di prima Scusa Se non mi ha messo La modalità che gli ho chiesto È così No 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 È così Praticamente noi dove È come se disegnassimo Il frame 2 Di un'animazione Sì se Omie ha fatto Se Omie ha scelto Quella modalità là Che ricordo io Se non mi ha mentito È così Se no abbiamo fatto Una cosa Beh nulla Raga ma chi cazzo è Che hai disegnato Una persona tentacolare Cioè ma potete disegnare così Vabbè io faccio diventare Lui un polipo Ma avete rotto i coglioni Ma ricalcalcalo No 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 Riccardo È una cittadina di Oristano No 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 Io non modifico più È perfetta Io ho fatto il mio Modesto lavoro Manca poco eh ragazzi Manca pochissimo Voglio giocare E aspetta Basta pubblicità Basta solamente fare Un piccolo plan gratuito In tutti i nostri canali E la pubblicità sparisce Ve lo giuro Ve lo assicuro Cosa è questo Sembra Sembra Stiwi Senza un braccio Non puoi erare Diego Ah ok ok Perché gli altri non lo sanno Grazie Semmi Non dovresti vedere La schermata degli altri In teoria Chris ma come mai Stai un po' perplesso Eh bro Come mai stai un po' perplesso Quanto manca Aspetta bro Grazie piccola Ma cos'è Perplesso No 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 Ragazzi No raga Ti hanno già anche i colori usati precedentemente Così Grazie piccola Buonasera Eh beh Carina Grazie del content Di Arovazzi Che sono suo figlio E di smetterla Di non riconoscermi Come suo figlio legittimo Grazie piccola Grazie Petus Grazie Danitsky No raga Il secchiello Non si può più togliere Questo è un insulto Proprio Grazie piccola Grazie piccola Salute Sono riuscito a fare meglio Una firma Che non Io le firme le faccio così Comunque su documenti Non questo programma Ma una roba sì Ma chi c'è una fece Chi c'è la fece C'è qualcuno che si è messo a colorare a mano Cosa è dentro Eccolo Oddio No ragazzi Omi Omi Dove che stai vedendo Stai disegnando Omi Eccoci Omi Ho detto anche Pirandello Omi Che hai fatto Che è successo Capose Cossiello Tranquillo Tranquillo Ho il covid Sì No Ci siamo Ci siamo Dai Carca miseria Vediamo se succede effettivamente quello che pensavo Ok Adesso ci divertiamo Allora Allora Vai Presento Ok Questo è Panetti tu l'hai mai avuto Vai Encore Leggi te Delle cose Poi c'è il posto della pelata Ecco Bello Bello Bellissimo Bellissimo No Ma dai Patiziano Ma sei un mio amico poi Non abbiamo Mili di No Ma poi guarda come è fatto brutto Non si capisce più di Panetti Siamo partiti dalla pelata Si sono presi tutto No E' calla E' calla E' calla E' classico Mi so Ma non succede quello quindi quello che Oh sì Ma è la fine Dovrebbe succedere Lei si scherza Ah ok Ok Si un po' Ah no no Si ma è una guida Animazione Ecco qua Ecco qua Ah ok No no Metti a meno secondi Metti a meno secondi Ami Ami Ma anche se ci sta Esatto Esatto Capuziello Vabbè E niente Vabbè qui è tutto Comunque c'è qualcosa di C'è qualche perversione Iniziamo la testa grossa perché è intelligente Ah era Capuziello quello E lui mi insulta Io non è che ti ho insultato Io ho interpretato il disegno Oddio Ok è Quareggio Grazie Grazie Attenzione Albano vomita mentre Panetti con vene in testa mangia feci No No Mera fumo Ma la stai vomitando No no C'è Ogni cosa si decompone praticamente Niente Vabbè Ecco qua Grazie a lei Vabbè Io l'ho tenuta circa uguale Vediamo Eh le feci che mi devastano Cioè La finestra diventa me E Albano cambia colore di cappello e sbocca Scusate qual'era la prima frase? Diz che si mangia le feci di Albano Però se le sta continuando avanti Ah no ok ok però effettivamente funziona Grazie Dani Se le sta mangiando Io ho fatto l'animazione Dobbiamo tenere i colori uguali però Così? Harry Potter senza braccio Senza motivo Ma non è Harry Potter Grazie Hank Grazie Prego Guardate i denti I denti mi sono impegnato Grazie piccolo Vabbè E niente Niente che non c'è Dai si capisce Harry Potter Hai aggiunto Le cuffie nuove DJ Gesù Ciao Flavij ma non sei più sul tubo Sei un biondo Ma no No questo devi seguire il disegno Chris devi seguire il disegno E' la crocifissione di Harry Potter Grazie piccolo Vai presentiamo Grazie Che paragonabile a Giotto Vediamo No Oddio Sviglia 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 What the fuck Eh infatti Mi sembra ovvio Cazzo gigante Molle Guardate come l'ho resi in HD Bello Tentacolare Il cazzo è diventato tanti cazzi Ok No è un polipo Niente Tornati in SD Vabbè E' stato un po' un insuccesso Ok Ma è molto difficile Impossibile Questo è cattivo Può capitare Oh cazzo un Digimon Si vuole Non vengono realizzati i capelli A Simone A Simone No Ha senso E arriva il cazzone Va bene Grazie Grazie Stop Cos'è Sempre i cazzi che arrivano in più Vabbè perché Sualizzarsi Sto disegno Io l'ho fatto più piccolo Perché sta sparendo No Ma sta sparendo Grazie Francesco Allora in effetti Berlusconi sparisce Però Si trasforma in un pene Il pene di Capuziello Simone Gischianti in Harry Potter R.P. Cavolo L'avevo Gischianti Giusto Giusto No ragazzi Io so come finisce Anch'io malissimo Io ho ricevuto questa cosa Qua Ragazzi ma l'ha diventato Sto disegno Io ce l'ho alla fine Gli italiani E libero La gif Va bene Si è trasformato Album di Hank Parto a gemellare Questa potrebbe essere una grande gif Cos'è? Vabbè Questo non è arrivato da me Si vede che è Maddox Ma basta Questo è quello che ho fatto io Mi fa volare felicità Vabbè giusto No a mia sinistra Ma si muove Ma che cazzo devo Ti interpretata quella cosa? Ma rendiamoci conto No vabbè Niente Chris è da Non sapevo che cazzo Disegnare Una X Beh mi sembra Ma è riconoscibile E questa è un plot twist Questa è Rovazzi Che cancella il deal Con No è Capus Che cancella il deal Con Rovazzi No è Una regia di Capus Directed by Grazie Auri Per due mesi Ultimo Valentian Valentian Nappi Proprio lei Proprio lei Super riconoscibile No 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 C'è ad Amsterdam Mi piace Potrebbe essere il titolo Di un film Bacio ad Amsterdam Ma è bellissimo Bacio ad Amsterdam Ma poi sembra un animale Che lo stanno a cavalca Ma è partita Stora la testa qua C'è dal bacio del vero amore A Rovazzi Per svegliare E non entrava a Rovazzi Wow Bello questo Tante gambe A sto tavolo Quanto fa E' dal cappuzzello Che sembra morti Diri che morto Divertente Bello Bello A A A A A A A A Grazie a tutti.